Il mondo di Christian Grey è ordinato, metodico e completamente vuoto fino al giorno in cui non vi rompe Anastasia Steele. Timida e ingenua, Anna sembra arrivare di dritto al cuore, un cuore freddo e ferito, e vedere oltre la sua immagine di imprenditore di successo. Christian riuscirà a scacciare con lei gli incubi della sua infanzia, oppure gli oscuri desideri, l'ossessione per il controllo e l'odio verso se stesso che riempiono la sua anima, distruggeranno la fragile speranza che Anna gli sta offrendo?